Ciao a tutti, tranquillità di coppia, brutto segnale. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Tramasco. E ti ricordo, l'appuntamento a San Valentino, vieni a Torino, al mio seminario, come avere fascino per farti amare. E il riferimento è il 333 15 11 703, poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo 9.30.19, autostima e seduzione, in amore e al lavoro. Riferimento sempre 333 15 11 703. E ti ricordo ancora, ti ricordo ancora diverse possibilità che tu hai per, diciamo, abbonarti al canale Massimo Tramasco con tre livelli di abbonamento e con questi tre livelli di abbonamento potrai ottenere dei risultati molto importanti. Questi risultati importanti sono risultati nella crescita personale. Vai a vedere sul canale Massimo Tramasco i tre livelli di abbonamento. E puoi fare un abbonamento anche con quota simbolica, veramente, sul canale Felicità Benessere, per diventare moderatore e modatrice del canale e poter, diciamo, risolvere delle questioni anche di visibilità durante la live. E allora, veniamo al tema. Spesso le persone, le coppie sono tranquille, non litigano mai, non hanno mai nessun problema e vanno proprio alla ricerca, no, di questa situazione qua. E invece, quando c'è un periodo così lungo, magari i coppie che non hanno mai litigati invita loro, però se dura parecchio questa situazione, dopo finisce che il litigio è come lo tsunami, diciamo così, arriva lo tsunami e c'è la separazione, perché c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che piano piano non va. Le contraddizioni, il confronto, nutrono comunque la relazione. La serenità, che spesso poi è una serenità artefatta, perché uno non è che non litiga perché non c'è niente da litigare, è perché tiene tutto dentro. Tenere tutto dentro, non essere d'accordo su delle cose, ma farsela andare, significa che piano piano, diciamo, si arriverà, anche con queste buone intenzioni, si arriverà all'inferno. Potremmo dire che la via dell'inferno è la stricata di buone intenzioni. Cosa significa? Significa che spesso il voler fare, diciamo, il voler fare i buonisti, voler, non voler, diciamo, cercare un contrasto, cioè manifestare anche le proprie opinioni, ma semplicemente assimilare quelle dell'altro, magari l'altra persona fa lo stesso, significa piano piano affossare la relazione. Spesso queste intenzioni, diciamo, sono giuste, però ottengono dei risultati sbagliati. In ogni amore che dure nel tempo c'è sicuramente lotta, c'è passione, c'è il, diciamo, il conflitto, il contraddittorio. E questo porta anche un incremento dell'intimità, è un miglioramento dell'intimità erotica, che è fondamentale affinché una relazione possa funzionare. Quindi non tenerti dentro le cose, ma quando c'è da esprimere le tue opinioni, anche litigando, in una relazione di coppia è molto importante farlo. Per questo video è tutto, ti do l'appuntamento. A San Valentino, Viena, Torino, come avere fascino per farti amare? Quindi 14 febbraio 2020, ora è 20.45, ti aspetto a San Valentino, ma il riferimento è il 333 15 11 703. E poi Milano, domenica, primo marzo, full immersion dal 9.30 al 19, autostima, seduzione, innamore al lavoro, riferimento 333 15 11 703. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!